Vera, mamma, noi non l'abbiamo da nessuno che la porto, arrenditi! Sì, Anna Rita, tanto le prime lezioni che fanno è sempre un po' un casino perché più della metà sono quelli che vengono per provare e a me Francesca infatti continua, Arianna non lo so che vuole fare perché dice quest'anno con il terzo mamma ci sono più comi, i compiti, c'è i rientri per il biomedico, quindi non lo so però Franci sì e quindi non ti preoccupare, poi c'è tutto il tempo per provare, organizzarsi e tutto il resto Senti, tu per la pizza eventualmente la settimana prossima sei disponibile prima della scuola e così insomma ci organizziamo, pensavo tra giovedì e venerdì prossimo, che dici? Oi Vera, buongiorno, che bello sentire la tua voce Senti, sì, lei comunque dovrebbe fare comunque la prova, quindi si troverebbe sì ad andare eventualmente con il gruppo non lo sa bene ancora cosa dobbiamo fare ma qualcosa quest'anno la deve fare Inutile dirti sì che pure lei sta incasinata Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille